Buongiorno, caffè di domenica 14 maggio. Alla fine Matteo Renzi è riuscito a fare incazzare il Corriere della Sera. Il titolo in prima pagina è ancora distaccato, Etruria, Renzi alza il tiro, si mettono tra virgolette le frasi del segretario, De Bortoli ossessionato, voleva la Rai, ma subito sotto Giannelli rovescia la frittata e disegna Matteo a letto, sono talmente irritato, dice, che non riesco a dormire. E il perché si capisce, dietro di lui alleggia l'incubo di De Bortoli e del suo libro Poteri Forti o Quasi. Una ossessione o quasi, commenta la signora Agnese tenuta sveglia dal marito. A pagina 2 e 3 la cronaca, scontro duro su Banca Etruria, Movimento 5 Stelle che vuole subito la commissione d'inchiesta sulle banche, il governatore di Banca Italia Visco che dice Leggo falsità su di noi, De Bortoli replica di aver per ben due volte rifiutato l'offerta di fare il presidente della Rai. Figurarsi, aggiunge, se potessi sentirmi risentito con Renzi per non essere stato nominato consigliere. Poi il Corriere cerca di far parlare Ghizzoni, il quale dice di considerare normale che politici e banchieri si parlino, ma aggiunge sul caso Boschi non rispondo. Il pezzo forte però lo firma il direttore. Potere e domande scomode. Fontana definisce un attacco incredibile quello sferrato a De Bortoli. Si capisce bene, aggiunge, che la vicenda delle banche toscane con il colpo durissimo inferto da una gestione clientelare e dissennata a investitori e risparmiatori sia una spina nel fianco del segretario PD che della Boschi. Tanto più, osserva Fontana, che al tempo circolava una storia. A molte società di credito e a tanti investitori anche stranieri fu chiesto di intervenire per il salvataggio. Accadeva sempre questo. Esaminavano le carte, facevano alcuni incontri e poi si ritiravano dopo aver conosciuto i personaggi e gli interessi strani, sottolineato e tra virgolette, che pesavano in quel piccolo mondo. Ecco dunque l'odore stantio di massoneria di cui scrisse Boschi, il quale facendo il suo mestiere, sottolinea Fontana, quando ha avuto un'informazione, l'informazione dell'incontro tra Boschi e Ghizzoni l'ha pubblicata. Il rapporto con l'informazione di Renzi e del suo mondo, conclude Fontana, è, per usare un eufemismo, complicato. Un rapporto questo sì ossessionato dall'idea di nemici sempre in agguato. L'ex premier non ha ancora elaborato la sconfitta referendaria, è tornato sulla scena dopo la vittoria alle primarie come se nulla fosse accaduto. Parole d'ordine e atteggiamenti simili e tanta insonferenza per le voci critiche e scomode. Sui giornali c'è poco altro. Matteo Renzi riesce sempre a far parlare di sé, ma in questo modo rischia di farsi male. Gli è già successo con il referendum e gli succederà di nuovo se continua ad attaccare la stampa, come fa Donald Trump. Ma Renzi, a differenza di Trump, non è stato eletto presidente degli Stati Uniti, non ha i codici della valigetta nucleare, non può licenziare su due piedi il capo dell'FBI. Deve farsene una ragione. Buongiorno.